Maniglie per finestre. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Le maniglie per finestre è una scelta che può sembrare banale ma invece è una scelta molto importante perché è l'unica parte della finestra che io vado a toccare ogni giorno quando devo aprire e chiudere una finestra. E' anche l'elemento che la va a caratterizzare. Quindi è importante che sia prima di tutto confortevole all'ergonomia. Ora sta andando di moda maniglie molto squadrate ma se sono maniglie con degli spigoli troppo vivi, troppo appuntiti, sono maniglie molto scomode nell'utilizzo. Quindi se ti piace la forma quadrata ti consiglio di non andare nelle forme più esasperate e di provarle prima di acquistarle. Poi è molto importante che la maniglia sia di una qualità superiore, non sia una maniglia base perché le maniglie basi non hanno nessun tipo di trattamento superficiale quindi quel bel effetto cromosatinato o oro che hai comprato dopo pochi mesi, a volte anche dopo solo poche settimane col pH della nostra pelle se magari è un pochettino più aggressivo rispetto alla media le vado a rovinare quindi diventano runite o si vanno a scorticare con gli anelli in maniera molto facile. Mentre se vado su delle maniglie con delle garanzie con dei trattamenti che solitamente sono dei trattamenti al titanio si chiamano pvd ma ogni azienda le chiama un pochettino a suo modo saranno maniglie che rimarranno più belle nel tempo. Un'altra cosa che puoi prendere in considerazione sulle maniglie è di prendere un trattamento antibatterico sono dei trattamenti praticamente con delle polvere di argento sopra che praticamente allontana il rischio di contagio oggi in era di Covid è qualcosa che può essere interessante anche perché il costo in più è veramente esiguo costo veramente poca differenza rispetto alla maniglia normale magari c'è meno scelta di modelli però è una cosa che può essere interessante. Un'altra cosa invece che è interessante è una maniglia se deve essere per una finestra blindata perché se deve essere una maniglia per finestra blindata deve avere o un pulsante o meglio ancora una chiave in modo che quando la maniglia è chiusa se uno dall'esterno fa un foro dalla finestra o dal vetro non possa riuscire ad aprirla e aprire la finestra in tutta comodità. Se ti saranno dei consigli non solo sulla scelta delle maniglie ma soprattutto sulla scelta degli infissi della posa in opera, del vetro eccetera 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 ti posso aiutare col servizio di consulenza con sistema bisacchi che ho ideato per tutte quelle persone che non posso servire direttamente con la mia azienda sì perché noi lavoriamo principalmente in Romagna e non riusciamo ad arrivare in tutta Italia normalmente insomma lo facciamo magari sporadicamente per lavori molto molto importanti fare una nuova costruzione, qualcosa che riusciamo a gestire nonostante la distanza. In tutti gli altri casi però ho ideato questo servizio in modo da aiutare tutte quelle persone che vogliono il parere di un esperto e un parere disinteressato perché normalmente quando ti chiedo un preventivo dall'altra parte potrebbe esserci una persona che gli interessa dirti una cosa piuttosto che un'altra. Se vuoi saperne invece di più su questo servizio vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!